Buongiorno, molto brevemente, nel senso che non abbiamo molte cose diverse da aggiungere rispetto all'incontro che abbiamo avuto troppo recentemente, molto recentemente con il Capo dello Stato. Escono confermate due indicazioni che noi condividiamo. La prima è l'urgenza, quindi l'ipotesi di chiudere la partita governo presentazione alle Camere, cioè alla Camera dei Deputati, molto rapidamente esce confermata a questo incontro. La seconda indicazione, il secondo orientamento che condivido è quello di fare un governo che si fondi su un architrave politica dove ci siano delle eccellenze tecniche, quindi invertendo la rotta rispetto a governi di più recente esperienza ed espressione. Per i punti che dovrebbero essere alla base e a fondamento del governo, economia, politica, tagli della politica, riforme istituzionali ed Europa, abbiamo indicato alcuni suggerimenti, noi li abbiamo messi per iscritto sotto forma di suggerimenti al Presidente del Consiglio e sono quasi tutti orientati sul primo punto, quello dell'economia e sul secondo che è quello delle politiche di riforma delle istituzioni, prevedendo il taglio alle province, la fusione dei comuni, taglio delle comunità montane, oltre alle grandi riforme che sono quelle che riguardano una distinzione di ruolo e funzioni fra le due Camere, taglio dei parlamentari e quant'altro ruota attorno a quelle considerazioni. Sì, rispetto al collega Nencini non aggiungo nulla di più, nel senso che abbiamo ribadito anche a nome dei partiti autonomistici presenti nel Parlamento che effettivamente l'emergenza è innanzitutto di carattere economico, sociale, c'è tutta la questione e l'agenda dei saggi che riguarda anche la grande riforma dello Stato e dei territori e anche su questo abbiamo dato e garantiremo sicuramente il nostro appoggio ed impegno, chiaramente confidiamo anche che ci sia un grande senso di responsabilità perché per la politica nel suo insieme questo noi riteniamo sia l'ultima grande occasione per dare un segnale di credibilità nei confronti dell'opinione pubblica e del Paese. Quindi su questo non possiamo e ci siamo soprattutto anche soffermati nell'augurare al Presidente incaricato Enrico Letta insomma che il suo tentativo vada fino in fondo e possa dare una risposta che è sentita a nostro parere dall'opinione pubblica anche prima bevendo semplicemente un caffè, quello che ci chiedeva il cameriera era quello di non scherzare perché siamo effettivamente in un punto di non ritorno. Detto questo l'agenda è ricca, può essere significativa in termini di risposte e quindi ci auguriamo che questo possa avere l'esito da noi tutti sperato. Grazie. Buon 25 aprile, buongiorno.